Lo sfornatutto EO 1490V di Roventa è un forno elettrico per la casa. Il corpo è solido e finamente rifinito. Sulla parte frontale lo sportello è dotato di una comoda maniglia per l'apertura e di un doppio vetro che consente un ottimo isolamento termico dall'esterno. Sfornatutto è davvero sorprendente. L'interno ha una capacità di 14 litri ed è rivestito in Duraston che consente una facile pulizia ed una resistenza ottimale dalle abrasioni. Sulla parte laterale invece le tre manopole di regolazione consentono di cucinare al meglio le nostre pietanze. Sarà possibile scegliere tra 5 diverse funzioni di cottura e cuocere contemporaneamente più pietanze grazie alla ventilazione interna. Nella confezione troviamo una serie di accessori che vi consentiranno di cucinare davvero di tutto sin dal primo utilizzo. Abbiamo due griglie, due leccarde smaltate ed un piatto pizza. Lo sfornatutto EO 1490V di Roventa è un forno elettrico davvero completo, adatto a chi voglia un elettrodomestico bello e funzionale per la propria cucina.